salve a tutti allora da un paio di giorni sto provando questo telefono qui di cosa si tratta lo vediamo subito da vicino allora eccoci qua si tratta del cubot x 30 io l'ho preso usato a circa pochi euro ecco la quarantina di euro perché come vedete ha lo schermo crepato ma ancora funzionante monta un android 10 in stock rom quindi non è invaso da app di terze parti ma è tutto originale solamente brand google ve lo faccio vedere sul retro a ben 5 fotocamere di cui una macro una grande angolare e una 48 megapixel sul fronte la fotocamera è di ben 32 megapixel ma il punto forte di questi dispositivi è sicuramente il rapporto qualità prezzo perché qui stiamo parlando di un dispositivo che è abbastanza di alte prestazioni ovvero ha una memoria di 256 gigabyte per 8 giga di memoria ram un processore mediatek helio p60 octa core quindi alte performance la cam supporta anche l'intelligenza artificiale supporto laterale con pulsantino touch nfc e riconoscimento impronta digitale e soprattutto altra cosa super performante è la batteria da 4200 milliampere che dura veramente veramente tanto io attualmente come vedete ho la batteria all 85 per cento di carica e l'ho caricato ho finito di ricaricarlo ieri sera e questa notte l'ho usato in test con anche diversi giochini lo schermo è veramente tanto luminoso e chiaro ma soprattutto devo dire quello che mi ha stupito particolarmente è il peso ovvero sembra un telefono pieno non sembra un plasticone allora io qui specifico il chassis attorno è plastica ok ma questo è vetro e ovviamente schermo di vetro ma il peso sarà come quello di un iphone 11 se vogliamo mettere in confronto un po di peso ecco però si non sembra assolutamente un plasticone quindi io adesso questo come vedete appunto come dicevo ho lo schermo ho il display vetro anteriore crepato ma questo telefono appunto sarà a breve in vendita sul sul mio ebay perché sostituirò lo schermo a nuovo e quando lo ricevete nella sua confessione è una confessione io adesso non ho purtroppo la scatola una confezione abbastanza grande dentro trovate tutto caricatore cavo mi pare se non ricordo male anche una pellicola di vetro ma non sono sicura vi danno la cover in omaggio in cui potete già inserirlo e siete pronti e questo qui veramente nel caso di questo modello 256 giga di memoria e 8 con 8 giga di ram sta circa sui 300 qualcosa euro mentre la versione 128 giga di memoria sempre con 8 giga di ram sta sui 200 quindi è veloce non scalda non ho trovato particolari lag le fotocamere fanno fin troppo bene il loro dovere ve la faccio vedere un attimo al volo che poi vabbè qui adesso non si vede purtroppo anche perché ho lo schermo vi faccio vedere qualcosa qui al volo forse i colori sono leggermente un po spenti ma nemmeno tanto sia pure la profondità di campo si vede tutta come nelle fotocamere più professionali e qui veramente io dico che siamo davanti a un dispositivo di di fattura ciao sono io di fattura veramente tosta questo secondo me rapporto qualità prezzo vale la pena averlo che chiaramente figo ciao